Si rinnova ad ogni incarnazione. Domanda, perché dite che la mente si mette sempre davanti e quindi ci illude? Guida, perché se tu dici ad esempio, voglio avanzare nel mio lavoro, la mente si mette sempre davanti e ti dice, ti insegno io come si fa. Se tu dici, voglio sapere perché vivo e che sto a fare qui, la mente si mette sempre davanti e ti dice, te lo dico io il perché. E ti illude, e ti illude, e ti illude. Perché la mente non potrà mai spiegare se stessa. Domanda, ma perché? Guida, perché la mente si rinnova ad ogni incarnazione e serve per una sola vita, mentre la coscienza è immortale e solo lei può spiegare le vite. Grazie. 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 Grazie.